Questa è una riunione veramente molto importante perché abbiamo chiesto che l'Europa da domani prenda iniziative importanti sulla Libia, bisogna parlare con tutti gli interlocutori, convincerli al cessato il fuoco, come Italia tuteliamo i nostri interessi quando chiediamo all'Unione Europea di essere protagonista perché ricordo a tutti che la Libia è poche centinaia di chilometri dalle coste siciliane, è un paese fondamentale per il Mediterraneo ma in questo momento non è solo un rischio per i fenomeni migratori, la Libia è un rischio per l'Europa anche per il pericolo terrorismo, c'è una guerra per procura, bisogna cessare tutte le interferenze perché ci sono paesi che interferiscono con quella guerra civile facendola diventare una cosiddetta proxy war e il nostro lavoro da domani come Unione Europea sarà coeso, l'Unione Europea parlerà e deve parlare con una sola voce. Io sto per partire per la Turchia, incontrerò il ministro degli esteri turco, la Turchia è fondamentale in questo momento per quella che è la guerra in Libia che deve cessare, domani sera sarò in Egitto, al Cairo dove ci sarà un altro incontro importante che riguarda i cosiddetti accordi sui limiti delle acque territoriali fissato tra il governo libico e il governo turco, sarà una settimana veramente importante sia per il governo italiano perché ci sarà anche la mia visita in Algeria ma allo stesso tempo per l'Unione Europea. Sono contento che si sia fatta questa riunione, non importa il dove, si doveva tenere in Libia ma le condizioni di sicurezza non l'hanno permesso, ma le iniziative da domani dell'Unione Europea vedranno un cambio di passo. Il ministro turco chiederà di fermare l'invio dei soldati di Ancara in Libia? Fatemi fare prima gli incontri, grazie.